Non so se si capisce Non lo so, most sadness pupazzo ever Yeah Buongiorno amici Guardavo la classifica Spotify E siamo quarti, i primi italiani E Rovazzi ce lo succa Incredibile Succa Rovazzi Che immagine celestiale Buongiorno amici L'uscita del disco si avvicina sempre di più Il 20 gennaio è vicinissimo Io sono gasatissimo perché forse uscirà Uno dei video più devastanti di sempre Spero Grazie 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 a tutti.